Signori, parliamo. Ci tengo subito a specificare che questo non è un video triste, è tutt'altro, è un video molto felice. Alcuni di voi l'avranno già percepito, altri hanno risposto al sondaggio, alcuni erano presenti in live quando mi stava balenando l'idea, ma adesso che la cosa è compiuta, è bene che vi spieghi che cosa sta succedendo su questo canale. E soprattutto come cambieranno le cose nel prossimo futuro, anzi, in realtà sono già cambiate nei momenti in cui sto pubblicando questo video. Il canale, l'avete notato, si è sdoppiato, o meglio, si è quadruplicato, ma tant'è, è poco rilevante. Adesso vado a spiegarvi cosa sta succedendo effettivamente. Parto col dirvi e con raccontarvi quel che è la mia storia, perché ho iniziato a fare YouTube, dato che non era il mio obiettivo principale, ma semplicemente lo stavo utilizzando come mezzo per farmi conoscere, per quel che riguarda il mio lavoro. Per chi non lo sapesse, ed è normale, e vi spiego anche perché, io sono un digital marketer, vale a dire, mi occupo di comunicazione e marketing per le imprese. Di conseguenza, io ho aperto questo canale YouTube, quello dove siete in questo momento, con l'obiettivo di divulgare, di far sapere effettivamente quelle che erano le mie conoscenze ed attirare nuovi potenziali clienti. Nel corso del tempo, però, ho trasformato il canale pian piano, inserendo alcuni tips dal punto di vista tecnologico, inserendo some up, parlando un attimo anche di post. Insomma, pian piano, qualche la mia passione primaria, perché io sono appassionato di tecnologia, si stava infilando all'interno di questo canale, finché non ha preso il sopravvento. E di conseguenza sono iniziate le prime collaborazioni, sono iniziati i primi risultati importanti, ho raggiunto i 1000 iscritti. Pian piano, la tecnologia stava letteralmente mettendo da parte quel che è il mio lavoro primario, che per carità è un lavoro che va benissimo, ma io avevo aperto il canale per quello. E adesso, dopo che sono passati tre anni dall'apertura del canale, vedere che i video di tecnologia vanno molto bene, e i video di imprenditoria digitale, digital marketing, letteralmente non se li vede nessuno, un po' ti dispiace. Però, come vi ho sempre detto, YouTube non è il mio lavoro, o almeno non lo è ancora il mio lavoro primario, anche perché, come vi raccontavo in live, e vi invito, qualora non aveste mai partecipato alle mie live, ad essere presenti ogni lunedì dalle 18 alle 21, il rapporto tra quello che YouTube mi dà e il lavoro che faccio giornalmente, quindi il digital marketer, è di 1 a 10 e talvolta 1 a 20, quindi c'è una differenza netta tra i due lavori. Ma non è neanche quello il mio obiettivo, vale a dire che per me YouTube è diventato pian piano quel che è una passione. Io prima vedevo le recensioni tecnologiche di quelli che oggi posso finalmente iniziare a chiamare i miei colleghi, e ne rimanevo affascinato. Mi dicevo, guarda, voglio fare anche io quel tipo di recensioni, mi piace per di più, è il mio ambito, io sono laureato in ingegneria informatica, quindi tutto quel che è la tecnologia, mi riguarda in prima persona e mi appassiona. E nel corso del tempo, le collaborazioni sono diventate sempre di più, vi ho raccontato la collaborazione con Flashman, che mi ha inviato e mi continua ad inviare i suoi prodotti, da poter testare, prodotti ricondizionati. Stanno nascendo nuove collaborazioni, questi giorni ho ricevuto una mail che non posso ancora spoilerarvi, e quindi si potrà approfondire tutto un altro ramo di tecnologia che io ho trattato in minima parte. Pertanto, anche raggiungere questo tipo di risultati mi ha portato a chiedermi, ok, va bene, la tecnologia sta andando bene, però c'è tutto quell'ambito, tutto quel ramo che alla fin fine è il mio lavoro, quello che mi sono scelto come lavoro, che non sto trattando minimamente e che anzi sto mettendo sempre più da parte. Ed è una cosa che mi dispiaceva, perché nel momento in cui ti rendi conto che se fai uscire un video sulle riunioni aziendali e poi esce un video su Starlink e il video delle riunioni aziendali non se lo vede nessuno, un po' ti dispiace. E di conseguenza inizia a dirti va bene. E cosa possiamo fare? Come possiamo cambiare tutta la questione? Al che mi è venuta l'idea? In realtà non mi è venuta in questi giorni, mi era già balenata da un bel po' di tempo fa, anche avendo seguito i corsi di YouTube di Marcella Scani, i vari video di YouTube che vi consiglio, qualora vogliate fare YouTube come professione di Andrea Ciraolo, tutti consigliavano di avere dei canali verticali, perché i canali orizzontali non funzionavano benissimo. Ed è quello che mi sono reso conto io in prima persona, perché io avevo un canale in cui praticamente parlavo di tutto, era diventato il mio diario, e a decollare invece erano solo e unicamente i video di tecnologia, come anche i video degli arbitri. Però se ci pensate, il video degli arbitri e il video di tecnologia non c'entrano assolutamente nulla tra di loro. È chiaro che ci sono tante persone che hanno iniziato a vedere un contenuto o l'altro o a vederli entrambi, però sono comunque una minima parte. D'altro canto, io avevo l'esigenza di continuare a parlare del mio lavoro, perché comunque, sebbene il mio lavoro stia andando molto bene, anche perché la mia principale, tra virgolette, fonte di pubblicità non è altro che il passaparola, mi ero reso conto che parlare di quell'ambito a me piace, e di conseguenza volevo continuare a parlare, non volevo metterlo da parte solo perché mi rendevo conto che i video di tecnologia stavano andando bene. C'era l'altra causa, che avrete notato, chi ha visto i video di Mike Shoshan, in cui ne parlava, riguarda principalmente l'algoritmo. Se inizi a fare due o tre video che vanno male, il video che sai che andrà bene non viene boostato da YouTube. E questo è un problema, perché ad esempio, se mi capita di dover fare tre video per via di collaborazioni, per via di esigenze puramente a livello lavorativo, perché mi capita di dover fare spiegoni, che poi in realtà mando direttamente come link ad un mio cliente, e poi magari esce il video che io so che andrà bene, che potrebbe andare bene perché piace al mio pubblico, YouTube me lo ammazza letteralmente. E quindi di conseguenza non va bene. L'altra cosa che mi era nata già nei mesi precedenti era detta dal fatto che, se un utente ti aveva scoperto per un video di digital marketing, in cui parliamo di digital marketing per pizzerie, e poi magicamente si trovava la recensione tecnologica del baby monitor, non andava benissimo. Magari in quel momento stesso si disiscriveva. Ed è una cosa che effettivamente è successa. Ci sono persone che nel momento in cui hanno visto video che non c'entravano nulla con quello con cui si erano iscritti, si sono disiscrette dal canale. E questo chiaramente è un problema a livello di crescita, perché YouTube ti premia nel momento, YouTube o comunque anche le collaborazioni ti premiano nel momento in cui i tuoi numeri vanno sempre bene. Se hai delle decrescite, anche di poco, un utente, due utenti, quelli che sono, questo si nota nel tempo. Di conseguenza potresti essere penalizzato. Ma era anche una questione puramente di coerenza. Cioè, vale a dire, era brutto anche per me nel momento in cui facevo il video, rendermi conto che un momento avevo parlato agli imprenditori, parlando di unioni aziendali, è quello che mi viene sempre in mente perché è il video che è andato peggio ultimamente. E il momento dopo parlo di Starling, che letteralmente si aggiungono i 5.000 visualizzazioni. Non è bellissimo. E soprattutto non mi sembrava coerente. Ergo la decisione. Dividiamo. Apriamo un secondo canale. Ok, questo canale, dove siete adesso in questo momento, rimarrà il canale primario, dove parliamo di tecnologia e dove ci saranno le live. A livello di programmazione, posso dirvi che sicuramente la live è confermata ogni lunedì dalle 18 alle 21. Per quel che riguarda i video, presumibilmente uscirà il giovedì alle 14.30, il video di tecnologia su questo canale. Sul secondo canale, che ho chiamato saveriocirello-digitalmarketing, in ogni caso vi lascio tutto in descrizione, qualora siate interessati o magari vi siate iscritti per quello, e di conseguenza non volete perdervi video di imprenditoria digitale o di marketing, ve li lascio direttamente in descrizione, su quel canale usciranno solo video dedicati agli imprenditori. Quindi video di imprenditoria digitale e video di digital marketing. O ad esempio, se mi capita di provare post o di recensire qualcosa che comunque si rivolga alle imprese, uscirà su quel secondo canale. E in quel caso, manteremo la pubblicazione sempre il martedì alle 14.30. Vi ho parlato di quattro canali, perché in realtà io ne ho aperti anche altri due. Uno in realtà era storico, c'era già, l'ho semplicemente ribrendizzato un attimo. Il terzo canale si chiamerà Saverio Cirelo Extra. Che cosa ci sarà su questo canale? Tutto ciò che non c'entra né con la tecnologia, né con il digital marketing. Vale a dire, quando parliamo di arbitraggio, quando parliamo di calcio, ad esempio abbiamo analizzato il caso della natura dell'Ecce, abbiamo parlato di come si poteva migliorare tutta la questione arbitrino, youtuber e cose di questo tipo, le varie clip di questa live, quindi gli estratti di live che qualcuno di voi ha visto nel weekend, anzi tanti di voi hanno visto nel weekend, usciranno su questo terzo canale. Quindi, quando non c'entrano assolutamente niente, li troverete direttamente là. La differenza tra i primi due canali e il terzo è semplicemente una. Sui primi due canali ci sarà almeno un contenuto a settimana, oltre la live chiaramente. Sul terzo canale non è detto che ci siano video tutte le settimane, sia perché io purtroppo sono ancora solo uno, sto aspettando che un editor mi dia una mano, però ci potranno essere principalmente quelli che sono gli estratti di live. Vale a dire, non ci sarà quasi sicuramente un video dedicato, tranne quando parliamo e riprenderemo tutta la serie di come mi sono dimesso da dipendente e ho iniziato a fare l'imprenditore. In quel caso ci sarà il video dedicato, ma in ogni caso non ci saranno presumibilmente video settimanali. Quando ci sarà la possibilità usciranno degli estratti di live, quindi ad esempio se parliamo di calcio, facciamo l'ammo viola, non troppo che può essere anche un contenuto interessante a livello di video, quindi che qualcun altro può fruire all'esterno della live, lo andrà ad editare e lo posterò sul canale terziario, in questo caso su Saverio Cirillo Extra. Il quarto canale è il canale che in realtà già avevo ed è quello di gaming. Questo non aspettatevi che possa ottenere chiaramente degli aggiornamenti. Noi ci capita in live molto spesso, talvolta con alcuni di voi, di giocare in live e capitano delle cose interessanti, delle clip interessanti, qualcosa di divertente, qualcosa di godibile, però non è il mio lavoro primario, anzi tutt'altro. Se riesco a giocare il weekend sono molto fortunato, anche perché è anche un modo per staccare un attimo tra YouTube, lavoro e cose di questo tipo. Pertanto se capita l'occasione di editare qualche clip, qualche reel, qualcosa di diciamo breve, lo posterò su quel canale, ma da lì ad aspettarvi che ci siano contenuti fissi, non aspettateveli. Chiaro, a meno che non divento un gamer di quelli mai visti, ma la vedo molto difficile. Pertanto, ricapitolando come cambia la pubblicazione, la pubblicazione in realtà non cambia. Questa è una contestazione che mi è stata fatta già in live perché si aveva paura che magari abbandonassi un argomento rispetto a un altro perché ci sono persone che mi seguono sia per la tecnologia sia per il marketing. State tranquilli, le cose non cambiano. Semplicemente invece di avere due video a settimana su un canale ne avete uno su un canale e uno sull'altro. Stop, non cambia assolutamente niente. Altra domanda che mi era stata fatta in live è se io voglio vedere tutti i video, dove li trovo? Allora, chiaramente vi inviterei ad iscrivervi a tutti i canali che trovate direttamente in descrizione. Ma in ogni caso ci sono due canali che io aggiorno sempre con frequenza e ogni volta che c'è un nuovo contenuto pubblico il link là. è il mio canale Telegram che trovate sia nei vari canali YouTube sia ve lo lascio comunque in descrizione. Lì non pubblico nessun tipo di offerta, non pubblico nulla se non i link dei vari contenuti, quindi dei vari video YouTube. E poi chiaramente Instagram. Instagram lì avete anche un rapporto un pochino più personale perché ci sono le storie e in ogni caso qualsiasi tipo di video esce indipendentemente dall'argomento lo vado sempre a pubblicare nelle storie. Però se non volete perdervi nulla quindi magari anche recuperarvi video più vecchi tra virgolette trovate il canale Telegram. Lì io pubblico sicuramente tutto. Pertanto non si perderà assolutamente niente. Non cambierà assolutamente niente da quel punto di vista state tranquilli so che molti di voi sono resti ai cambiamenti ma in ogni caso questo è un cambiamento doveroso perché mi sono reso conto sia in ottica tra virgolette di vendita quindi di collaborazioni con altre imprese che magari vogliono inviarmi i loro prodotti vedono video che sono andati male e pensano che potrebbero andare anche i loro video male. E questo fa sì che chiaramente io diventi meno appetibile in questo modo so per certo che ho una tipologia di video che va sicuramente bene il secondo canale indipendentemente dai risultati che fa comunque i contatti me li porta quindi a quel punto di vista è una cosa per sia agevolare me chiaramente nel momento in cui devo essere contratto da delle imprese sia chiaramente per agevolare l'utente finale perché se non è interessato a vedere le recensioni del Baby Monitor mi viene in mente il Baby Monitor perché è l'ultimo che ho fatto non se lo deve esorbire si vede semplicemente quello che gli interessa di conseguenza quali canali vanno seguiti il primo canale è questo si parla di tecnologia tutto tondo software e hardware rivolto semplicemente al cliente finale quindi non necessariamente alle aziende il secondo canale se avessero cirello digital marketer si rivolge unicamente a imprenditori titolari d'impresa o comunque chi è interessato al mondo del lavoro terzo canale extra tutto ciò che non c'entra con questi due argomenti quindi arbitraggio calcio altre tipologie di passioni io che vado a provare prodotti che non c'entrano assolutamente niente con i primi e cose di questo tipo li troverete lì quarto canale gaming se mi ricordo ci pubblicherò qualcosa però lo lascio lì perché non si sa mai e comunque ho notato che a distanza di tempo qualche mio walkthrough se lo sono andato a vedere in realtà un video se lo sono andato a vedere quindi mi fa comunque piacere almeno so di intrattenere qualcuno a livello di pubblicazioni ribadisco rimaniamo con la live il lunedì dalle 18 alle 21 il video martedì in ambito di imprenditoria e marketing digitale sul secondo canale il video di tecnologia sul primo canale il giovedì sempre alle 14.30 e nel caso dovessero esserci degli estati di live a seconda dell'argomento in ogni caso li troverete nel weekend o il sabato o la domenica presumibilmente la domenica sempre alle 14.30 per chi aveva chiesto in live se c'è la possibilità che possono aumentare il numero di video io francamente lo spero però la vedo difficile adesso perché sono da solo a fare questo tipo di cosa sto aspettando una mia collaboratrice che si sta formando e io devo formarla altrettanto e quindi di conseguenza ci vorrà un po' di tempo per mettersi a regime pertanto non so dirvi effettivamente quando ci potranno essere magari due video su un canale due video sull'altra per il momento sappiate che rimarrà meno un video su ciascun canale se poi dovesse riuscirci vi aggiornerò detto ciò io vi ringrazio perché chiaramente se non fosse per voi non sarei mai arrivato a questo tipo di risultati non avrei mai potuto collaborare con le aziende non avrei mai potuto fare le recensioni tecnologiche che tanto avevo sognato in tutta la mia infanzia sicuramente mi vedevo i video dei vari top recensori qui su youtube e di conseguenza un semplice grazie detto ciò io vi rimando a tutti i link che vi lascio in descrizione se aveste dei commenti dei consigli vi leggo direttamente e vi rispondo lì noi ci vediamo sui vari canali grazie a tutti